ciao a tutti allenamento di oggi in vista sempre dalla gara di maggio del trofeo centro storico di turbico oggi ho fatto 32 34 36 kg con 32 34 kg ho fatto due serie da 30 ripetizioni dove sono giustato intorno ai tre minuti e mezzo per ogni serie abbastanza buono senza strafare buone le sensazioni pare che stia andando parecchio meglio rispetto alle settimane precedenti con i 36 kg anche abbastanza bene ho fatto tre serie da 12 ripetizioni e dopo l'ultimo poi sono riuscito addirittura quasi a rientrare in un minuto e anche lì è andata abbastanza bene dopo ero piuttosto cotto ho fatto tutto appena finito di lavorare niente ho deciso solo di tagliare un po i complementari facendo una super serie di stacchi con i due da 36 in super serie con i jump squat e 3 serie da 10 ripetizioni per ogni esercizio speriamo di continuare così probabilmente a maggio si potrebbe vedere un buon risultato grazie a tutti buona serata ciao 12 13 14 15 16 16 17 2 minuti 18 19 19 20 21 22 23 24 25 26 3 minuti 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Minuto 9 10 11 12 12 bravo dai 13 14 15 non mollare 16 2 minuti 17 18 19 forza dai dai 20 21 22 avanti così 23 23 24 bravo 3 minuti 25 26 27 28 29 30 30 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 12 12 2 3 3 4 5 6 6 6 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 12 2, 3, 4, 5, 30 secondi, 6, 7, 8, 9, 50 secondi, 10, 11, un minuto, 12,